Domani è il primo febbraio, è un sabato e io è da tipo tre sabati che sono libera e tre sabati che non posso andare a fare la ciclovia perché piove, c'è nuvoloso, fa freddo, c'è nebbia e spero, vedete questo sole qua, che è mezzo coperto dalla foschia. Allora spero vivamente che domani sia una bella giornata perché sennò mi tocca posticipare ancora e devo provare la mia bicicletta nuova e non l'ho ancora provata e quindi spero che domani sia bello, ecco. Torniamo a letto. Torniamo a letto Abbiamo fatto otto chilometri Sì 10 chilometri Torniamo a letto Torniamo a letto Torniamo a letto Torniamo a letto io no dai non troppo stai filmando con quella telecamera lì si ho fatto più grande errore della mia vita ovvero portare via il drone senza il cavetto per collegarlo al telefono e quindi siccome non ho voglia di fare tutta la procedura per collegarla al wifi perché bisogna rifarla dopo ho deciso che userò il drone così a caso e non so neanche se sto registrando intanto lo sto facendo volare è passato un aerone molto bellissimo credevo di averlo registrato invece la telecamera puntava verso il basso buona comunque come voleva si dimostrare oggi non c'è il sole come da due settimane a sta parte ogni sabato fa brutto oggi adesso sta anche più vigilando noi non vogliamo comunque la ciclovia del Brenta parte da Trento e arriva fino a Venezia noi l'abbiamo presa Fontaniva subito dopo il ponte vicino a Cittadella dove siamo partiti e siamo arrivati a quasi Piazzola sul Brenta adesso penso arriveremo lì dopo arriviamo a Piazzola poi vediamo quanta quanta energia ci rimane si infatti io il culo ha maccato si siamo venuti a provare le biciclette quindi Efrem ha scoperto che la stella è un po' troppo dura effettivamente serve tipo il culotto il culotto al silicone il culotto rinforzato si una stella tecnica si dice stella tecnica è una stella tecnica io i pantaloni ultra leggeri della Decathlon non è un mercadobissimo culo non è un mercadobissimo culo la destra è buona dritta anche che andrà Dove non entriamo perché non ho il lucchetto per legare le bici Vuoi stare qua? Io vado un attimo a piedi e faccio un po' di ripresa mentre mi avvicino Sì, sì, sì Sì, sì Sì, sì, sì Sì, sì Sì, sì Sì, sì Sì Sì, 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 sì Sì Sì, sì